Sono Mauro Dallò, Davide Di Pierro, Luigi Picarella, Emilia Napolano e Alessia Caparro, i cinque studenti dell'Istituto Augusto Righi di Fuorigrotta che hanno ricevuto questa mattina un riconoscimento pubblico della città metropolitana per il loro piazzamento nella competizione internazionale Zero Robotics. I ragazzi sono stati guidati dai docenti di matematica e di informatica Salvatore Pelella e Ciro Malcarne. L'attività di Zero Robotics è un'attività particolare perché richiede tempi che non possono essere legati al personale della scuola, per cui abbiamo lavorato in quest'aula con due computer a disposizione e quando eravamo un gruppo consistente i ragazzi hanno dovuto portare i propri portatili da casa. Zero Robotics è una gara di programmazione aerospaziale organizzata dal MIT di Boston che richiede conoscenze di matematica, fisica ed informatica ben al di là dei normali programmi scolastici. Quest'anno la competizione studiava gli spostamenti di un satellite artificiale capace di agganciare oggetti nello spazio, un problema reale che interessa anche la NASA. Il gioco funziona in questa maniera, i ragazzi scrivono il codice, ogni sera lo inviano all'MIT di Boston, poi vengono fatte sui computer di Boston, vengono fatte delle simulazioni, il giorno dopo esce una classifica. Con questa classifica i ragazzi possono vedere le simulazioni proprie e anche quelle degli avversari e rendersi conto di quali sono i problemi del proprio codice e quali sono invece le intuizioni e le cose buone che riescono a fare gli avversari. Il lavoro insieme ha educato i ragazzi a stare insieme, ad accogliere l'altro, a rispettare le opinioni dell'altro, non solo perché rispettarle uno può dire va bene, ti ho ascoltato, punto e basta, ma invece confrontarsi è una cosa diversa perché può portare anche al cambiamento della tua opinione. Veramente gratitudine al Righi, a questi ragazzi che avevo già conosciuto, che sono davvero un'eccellenza della nostra città, è importante anche sottolineare il lavoro che si fa sulla scuola, sulla scuola della città metropolitana, la scuola comunale, ma tra mille difficoltà emerge il talento di questi ragazzi, così giovani mettono in campo competenza, capacità, innovazione, come hanno detto loro, voglia di confrontarsi sul profilo umano, di rompere anche gli ostacoli che ci sono quotidianamente per arrivare a questi risultati. Quindi oggi abbiamo dato un riconoscimento formale, simbolico e istituzionale della gratitudine della città metropolitana verso la comunità scolastica del Righi e in particolare questi ragazzi così giovani, ragazze e ragazzi che sono l'orgoglio della nostra città.